Disponibile alla Link Motors Putignano via Napoleone Bonaparte 116B una meravigliosa Yamati Max 530 SX Sport Immatricolazione settembre 2019 Tipo cambio automatico Chilometri 5500 Ultimo tagliando effettuato a 3500 km in casa madre Yamaha con garanzia ufficiale fino a settembre 2024 Accensione elettrica Catalizzatore ABS Parabrezza Parabrezza 377-3566-041 Segui la nostra pagina web www.linkmotorsputignano www.linkmotorsputignano.com www.linkmotorsputignano.com